Il festival si terrà ad Ancona dal 20 al 28 marzo 2021 per la direzione del regista e direttore della fotografia Daniele Cipri. Riveleremo ora i cortometraggi che i nostri comitati di selezione hanno scelto per il concorso nazionale e per il concorso internazionale. Per annunciare i cortometraggi selezionati nella categoria Corto Slam lascio la parola a Luca Caprara, co-direttore artistico del festival. Il festival da sempre cerca un rapporto con il pubblico al fine di un suo più attivo coinvolgimento. Per questo nella serata inaugurale denominata Corto Slam sarà proprio il voto del pubblico a scegliere quale tra i corti proiettati possa accedere alla serata finale. Vi annuncio ora i corti semifinalisti Corto Slam. I corti sono Giador, regia di Simone Bozzelli, distribuito da The Open Reel, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia. 500 Calorie, regia di Cristina Spina, distribuito da Zen Movie, prodotto da True Love Cinema e Via 73 Films. Gas Station, regia di Olga Torrico, distribuito da Elephant Distribution, prodotto da Sayonara Film, Factory Film, Associazione Terre di Cinema e Centro Sperimentale di Cinematografia. L'ultimo fascista, regia di Giulia Magda Martinez, distribuito da Giulia Magda Martinez, prodotto da Giovanni Dota. Stardust, regia di Antonio Andrisani, distribuito da Zen Movie, prodotto da Miami No Face Production. 40 Cavalli, regia di Luca Ciriello, distribuito da Zalab, prodotto da Zalab e Lunia Film. Malefadau, regia di Matteo Incollo, distribuito da Elephant Distribution, prodotto da Momoti e Arte Video. Le Ziegle de Cartage, regia di Adriano Valerio, distribuito da Elephant Distribution, prodotto da Fuldawa Films, Sayonara Films, APA, Le Chicoine Film e French Lab Agency. L'appuntamento con Corto Slem è sabato 20 marzo all'auditorium della Mole Vambitelliana di Ancona. Ora ho il piacere di passare la parola a Francesca Gironi, responsabile per Amnesty International Marche del progetto Accorto di Diritti, una collaborazione, quella con Amnesty, che onora il Festival Corto Dorico. Lascia a lei ora l'annuncio dei corti internazionali per il concorso Short All Rights Accorto di Diritti. Amnesty International Marche, nell'ambito della programmazione nazionale del progetto Arte e Diritti Umani, promuove dal 2012 il concorso Accorto di Diritti, divenuto dal 2019 la sezione internazionale del Festival Corto Dorico. La sezione presenterà al pubblico sette cortometraggi, tra i 165 ricevuti da tutto il mondo, sul tema della violazione dei diritti, selezionati da un comitato composto da 30 attivisti Amnesty provenienti da tutta Italia. Annunciamo quindi i sette cortometraggi della sezione Short All Rights Accorto di Diritti, in programma per la serata del 25 marzo. I corti sono dall'Islanda XY, diretto e distribuito da Anna Karin Larousse-Dotir, prodotto da Paesis Production. Dall'Iran, The Visit, regia di Azadeh Mousavi, distribuito da Lights On e prodotto da Azadeh Mousavi. Dal Canada, Rebel, regia di Pierre-Philippe Chevigny, distribuito da H264 Distribution, prodotto da Unité Centrale. Dalla Francia, Marta, regia di Benoît Verdier e Julien Verdier, distribuito da Benoît Verdier e prodotto da Agna Films. Dagli Stati Uniti, La Historia de Matteo, diretto e distribuito da Malona P. Bandelt, prodotto da MPV Productions. Dalla Francia, 22 April, diretto e distribuito da Cesare Maglioni, prodotto da Iago Matteo Velasco e Cesare Maglioni. Dalla Siria, Braids, regia di Ismail D'Archi, prodotto da Abdullah Mudo e distribuito da Ismail D'Archi. Questi sono i sette cortometraggi scelti per la serata del 25 marzo da Amnesty International, tra quali verrà assegnato il premio Amnesty. Ricordiamo che Amnesty ha lanciato anche quest'anno la campagna Right for Rights, una maratona di raccolta firme per i difensori dei diritti umani, iniziativa che termina il 10 dicembre, data della nascita della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. I cinque casi di quest'anno, da Cile, Arabia Saudita, Turchia, Algeria e Amazzonia Colombiana, sono casi di persone che hanno ammesso rischio la loro vita per la difesa dei diritti umani e che per questo hanno subito ripercussioni. Vi invitiamo a firmare sul sito amnesty.it. Ogni firma è importante perché aiuta a fare pressioni su governi e istituzioni. Negli anni, grazie al sostegno di migliaia di persone, siamo riusciti a ottenere giustizia per alcuni dei protagonisti delle scorse maratone. Ora lascio la parola a Rebecca Liberati per l'annuncio dei corti finalisti. Siamo arrivati al momento clou del nostro annuncio. I corti finalisti della diciassettesima edizione del Festival Corto Dorico sono... Eggshell, per la regia di Ryan William Harris, distribuito da Elephant Distribution, prodotto da Giant Moa e Accademia delle Belle Arti di Bologna. A Disappearance, regia di Laura Spini e Lawrence Brook, prodotto da Butthead Films e Tashi Films, distribuito da Laura Spini. Finisterre, regia di Tommaso Frangini, prodotto da California Institute for the Arts, distribuito da Tiny Distribution. Zeng, regia di Giacomo Sebastiani, prodotto da Atacama Film, Ouvert e Malfè Film, distribuito da Lights On. Pilgrims, regia di Ali Asghari e Farnosh Samadhi, prodotto da Haurvatat Film e Tart Films, distribuito da Zen Movie. Inverno, regia di Giulio Mastromauro, prodotto da Zen Movie, Indaco Film, Wave Cinema e Diero Film, distribuito da Zen Movie. Questi sei cortometraggi, insieme al corto che uscirà vincitore dalla semifinale Corto Slam, votata dal pubblico, potranno concorrere per il premio Stamira, assegnato dalla giuria al miglior cortometraggio, il premio Onnie e Viem per il miglior cortometraggio di impegno sociale, il premio del pubblico, votato dagli spettatori e tutti gli altri prestigiosi premi che verranno assegnati durante la nostra serata finale, che si terrà, lo ricordiamo, il 27 marzo 2021. Facciamo i complimenti e auguriamo buona fortuna a tutti i corti selezionati per questa diciassettesima edizione. Il Festival Corto Dorico vi dà appuntamento dal 20 al 28 marzo 2021, ma non vi lascia soli. Vi accompagneremo nell'attesa della primavera con una serie di appuntamenti online, a cui potrete partecipare seguendo il nostro sito e le nostre pagine Instagram e Facebook. Corto Dorico resiste, il cinema non si ferma. Un grande saluto da tutto lo staff di Corto Dorico. A presto. Grazie.